Il tuo sogno è giocare un minuto nella Juve, ma tu hai spesso questi incubi? Spesso sì, però per fortuna sono sogni più che incubi. Ma vabbè. Abbiamo visto una grande esultanza che tu hai fatto a Vannucchi, detto Igli, e dopo che ha parlato rigore, sei quello che ci sei dato incontro con vevenza e gioia. C'è una solidarietà tra vent'anni in uno spogliato di veterani? Sì, sicuramente, però come dicevo prima, avendo giocato insieme c'è anche un rapporto diverso da più tempo, quindi sono stato molto contento per lui e per la squadra soprattutto. Questa è una domanda delicata, rischi di cadermi su questa. Alla PlayStation che squadra scegli, ma scopra tutto quando ci giochi? Ma ci gioco abbastanza, devo dire, anche se più che giocare a FIFA, gioco magari a Call of Duty. Però se gioco a FIFA uso giustamente il Tottenham. Ah, il Tottenham. Bene. Ci chiedevamo se c'è l'Alessane nella PlayStation, perché io e Canuti non giochiamo. Purtroppo non ancora. Canuti non c'è l'Alessandria. Vabbè, la faremo. La faremo, la faremo. Sei di Marate, che è in provincia di Lecco, quindi è d'obbligo una domanda. Quanto sei Tignone? Ma non particolarmente, dai. Per fortuna solo una metà della famiglia fa parte della Brianza, il resto è un po' più fuori, quindi diciamo così, dai, una via di mezzo. Sei poliglotta, Delchi? Cosa vuol dire Tignone, scusa? Tignone vuol dire Brianzolo, come dire, rappreso, Turchia, in genovese della Lombardia. Braccino corte? Ma, Braccino corte. Quello lo escludiamo, però. Lo escludiamo. Deve comprare l'orologio dopo, tra l'altro, da parasole. Bene, raccontaci una domanda che non abbiamo fatto a nessuno. Come sono stati scelti quest'anno i numeri di maglia e perché tu hai il 20? Ma io ho il 20 perché sono nato il giorno 20, quindi ho voluto prenderlo anche in base a questo. e come sono stati scelti, ci siamo messi comunque d'accordo con tutta la squadra e in base alle preferenze di ognuno abbiamo scelto i numeri. Niente di particolare, diciamo così. Il prossimo anno o scegliere di nuovo il 20? Tu hai fatto la sesta domanda, sono andato fuori. Dipende, dipende. Se porta bene quest'anno, sicuramente sì. Va bene, ho finito.